Non si ferma il lavoro dell'ambientalista Gerardo Scotti e dei volontari che si occupano della manutenzione e della cura delle specie di animali presenti nel fiume Testenne e non solo. La loro dedizione infatti è rivolta anche al progetto Arca che nasce dalla necessità di tutelare tutte le specie della fauna minore che per varie ragioni si trovano ad essere in difficoltà o in pericolo di vita. Attraverso una rete di collaboratori dell'Associazione Genesi dell'Ambiente, ha dichiarato Gerardo Scotti, recuperiamo gli animali che ci vengono segnalati e in collaborazione con il Centro Recupero della Fauna Selvatica di Napoli e con un nostro veterinario che per il momento collabora solo in modo virtuale, individuiamo specie e problematiche di salute degli animali recuperati. Lì decidiamo nei casi dove gli animali necessitano solo di uno stallo e cibo oppure se questi devono essere avviati a cure più specializzate che il CRAS garantisce in modo ineccepibile. Gli animali che arrivano al CRAS dopo un percorso di riabilitazione e cura ci vengono riaffidati per essere liberati nei luoghi di origine e così anche con quelli che restano in stallo all'ARCA. Stiamo cercando, aggiunge il presidente dell'Associazione, di individuare una struttura dove tenere in stallo gli animali con un accordo che chiederemo al direttore sanitario. Per ora abbiamo tanti animali in cure da dover trasferire al CRAS e tanta voglia di fare bene e nel modo giusto. Il progetto ARCA, spiega Scotti, teso a preservare il nostro patrimonio faunistico, solo nei giorni scorsi ha recuperato un allocco, un merlo e una gazza in difficoltà. Abbiamo bisogno di gabbie e culle termiche, oltre a farmaci e nutrimento, per dare una possibilità a queste creature di sopravvivere. Questo mese abbiamo recuperato 15 volatili, 7 sono stati rimessi in libertà, 5 sono all'ARCA e vengono curati e nutriti, 3 sono morti a causa delle cure tardive. Abbiamo chiesto al sindaco una sede per portare avanti le nostre attività, ma per ora non abbiamo avuto risposta. Per fare tutto ciò occorre un sostegno economico, ragione per la quale l'attivista rivolge un appello ai cittadini, abbiamo bisogno di tutto, fa sapere Scotti, guanti, presidi medici, medicine, gabbie, gabbie trappole, culle termiche e nutrimento.